Il fecato grasso è una condizione potenzialmente molto pericolosa per la nostra salute e purtroppo affligge circa un quinto degli italiani. Perché è pericolosa? Cosa può succedere in queste persone? L'abbiamo chiesto aver esperto al dottor Enrico Torre che abbiamo incontrato nel corso di un convegno molto bello che prende il nome di Nel Cuore di Santa, giunto alla quindicesima edizione. Dottor Torre, innanzitutto le chiederei di darci una definizione, di spiegarci esattamente che cos'è la Muzzled, la Metabolic Associated Steatotic Liver Disease, più facile dire l'acronimo che cercare di pronunciarlo. Che cos'è questa patologia? È quello che adesso viene definito in questo modo ma che noi abbiamo sempre definito come fegato grasso o epatopatia metabolica. Un tempo si riteneva che fossero casi rari e che la maggior parte delle evidenze di questa patologia fosse conseguente all'assunzione di alcol, per cui un tempo si chiamava Nafl, Non Alcoholic Fatty Liver Disease. In realtà si è scoperto che è molto più diffusa, parliamo di circa il 20% della popolazione generale, una persona su cinque, ed ha un'origine genetica. Ecco, le cause sono appunto solo genetico? Ci sono anche dei problemi comportamentali legati all'alimentazione, all'uso, magari all'abuso di alcol o di altre sostanze. Cioè perché si diventa portatore di Muzzled? E come per tutte le cose della vita le cause sono sempre diverse. Alla predisposizione genetica si aggiunge, ed è quello che ha causato questa grossa prevalenza nelle popolazioni mondiali, in alcune popolazioni arriviamo addirittura al 30%, e lo stile di vita non corretto. La sedentarietà, l'alimentazione troppo rica di grassi saturi. Ecco, quanti sono questi pazienti? Ce l'ha già un po' accennato, però vorrei chiedere appunto in Italia quanti sono e anche qual è il costo, perché lei su questi argomenti ha fatto anche delle valutazioni di tipo economico. Cioè quanto ci costa questa patologia? Parliamo di poco meno di 12 milioni di persone in Italia che sono sicuramente affetti dalla patologia, quindi un italiano su 5, per un costo stimato intorno ai 7 miliardi e 730 milioni di euro all'anno, che è un costo che è uguale al costo del diabete da solo o un pochino superiore a quello dell'obesità. Ed è il 5,8% della spesa sanitaria nazionale. Ma come è così elevato? Quali sono le determinanti di questo costo? Cioè sono le ospedalizzazioni, sono i farmaci che vengono utilizzati, cos'è che fa appunto costare così tanto la patologia? È una somma di fattori. La prima causa è che una percentuale non trascurabile dei pazienti che hanno questa patologia sono già diventati diabetici, parliamo di circa il 25-30% e il diabete costa moltissimo. Poi una parte di queste persone va incontro a malattie cardiovascolari che sono molto costose, un'altra parte va incontro all'insufficienza renale e all'insufficienza epatica. Bene, anzi non tanto. Come si arriva alla diagnosi della Maselda? La diagnosi della Maselda si fa anzitutto su degli screening molto banali, si va a vedere la circonferenza addominale del paziente che non deve essere superiore a 94 negli uomini, 88 nelle donne, l'eventuale presenza di dislipidemia, ma ovviamente prima di tutto il paziente deve avere un ecoaddome con la presenza di scontro di grasso nel fegato. Dopodiché abbiamo delle apparecchiature, degli ecografi con dei moduli definiti di shear wave che vanno a determinare l'elasticità del fegato, cioè sono in grado di capire se il fegato sta cominciando a diventare non più elastico ma più rigido, perché in questo caso il paziente va incontro ad un rischio oncologico e va incontro ad un rischio di cancro cirrosi, per cui bisogna cercare di diagnosticare questa patologia più precocemente possibile. Perché l'evoluzione, come lei ha spiegato benissimo nella sua relazione, è della Maselda alla Mesh e poi a questo punto anche problemi di tumore al fegato. Tumore e cirrosi e insufficienza epatica terminale negli Stati Uniti sta diventando la prima causa di trapianto di fegato, sta soppiantando quindi le patologie virali. Da cui per fortuna oggi si guarisce. Senta dottore, vediamo la cosa più importante, almeno penso sia quella più importante, cosa fare? Cosa fare per prevenirla? Quindi quali sono gli stili di vita da adottare e cosa fare una volta che c'è una diagnosi e se ci dice anche come si arriva alla diagnosi così ci aiuta? La prima cosa da fare è adottare corretti stili di vita, per cui la nostra ASL ha già istituito un dipartimento ad hoc per educare le persone che hanno questo o altre necessità ad adottare corretti stili di vita, quindi sia l'introito calorico globale, consumo di alcol, consumo di grassi e attività fisica. Dopodiché la diagnosi si fa utilizzando degli screening di popolazione, la nostra ASL si doterà a brevissimo di un fibroscan portatile per poter essere presenti sul territorio e poter screenare la popolazione, perché qua parliamo di popolazione non diabetica, cioè il diabetologo che va a cercare le persone che hanno questa patologia e cerca di prevenire anche lo sviluppo successivo del diabete. Dopodiché ci sono dei farmaci, i pazienti che sono già affetti da diabete si possono avvalere alcune terapie che sono uscite negli ultimi anni per curare il diabete che sono efficaci anche nel rallentare o addirittura far regredire questa situazione. Ad esempio? Ad esempio gli GLP1 agonisti e gli SGLT2 inibitori. Funzionano entrambi anche sulla MASL? Precisamente, perché hanno un effetto sia sul calo ponderale che un effetto antinfiammatorio, perché una forte componente di questa patologia è data dall'infiammazione. Inoltre... quasi dieci anni. E poi usciranno altri farmaci e recentemente l'ente regolatore americano ha approvato un farmaco della Madrigal Farmaceutici con una piccola azienda spagnola che è il Resmetirum, che è un agonista selettivo del recettore tiroideo di secondo tipo che è ben espresso nel fegato e questo farmaco è in grado di inibire l'accumulo di grasso nel fegato e sarà il primo farmaco che avremo a disposizione nei soggetti che non sono diabetici e quindi che vanno trattati al momento solo con l'educazione alimentare. Ecco, per dei farmaci che funzionano sicuramente un grande aiuto, è anche una specie di scialuppa di salvataggio, però importante, e torno su questo, il tema dello stile di vita. Ecco, ci dà qualche norma comportamentale che dovrebbero adottare innanzitutto appunto le persone che è stata diagnosticata, che sono quelli diciamo così più a rischio delle complicanze che abbiamo detto. Pesarsi, prendere atto dell'identità del sovrappeso, misurare quindi anche la circonferenza addominale, i famosi 6.000 passi al giorno che sono sempre il primo provvedimento che ciascuno deve adottare, che può essere facilmente verificabile perché tutti abbiamo uno smartphone in tasca che ci misura quanta strada facciamo, l'alimentazione corretta che vuol dire evitare i fuori pasto, evitare le bevande alcoliche se non in casi ludici particolari, evitare i grassi saturi e ovviamente non eccedere con le calorie, questo è fondamentale. E poi fare attività fisica se si può anche a livello aerobico ogni tanto. Quindi la mia raccomandazione è incrementare l'attività fisica, cominciare dal camminare per chi ha poco tempo, almeno i 5-6 km al giorno, i 6.000 passi canonici, correre, nuotare, fare palestra, giocare a paddle, qualunque tipo di attività aerobica è ben vista e questo consente anche eventualmente di poter fare qualche strappo alimentare, se uno si muove e brucia può farsi perdonare qualcosa in più a tavola.